Siamo in mare aperto per altri 18 giorni. Poi finalmente arrivamo dentro un grande arcipelago, le cui isole erano l'una vicino all'altra. E' un... Cosa c'è? Non è l'impronta di un piede umano questa. Solo un gigante. O un dio. Un mostro, Ulisse. Francesco! Daniele, che cosa fate qui? Fatevi vedere bene. Siamo uomini che vogliono conoscere altri uomini e su questa tua isola abbiamo visto i segni della tua potenza. D'acquisi. No! 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 Ecclope, ora che hai mangiato carne umana, bevi questo. E vino che avevo portato con me fiducioso nella tua ospitalità. Ecclope, ora che vieni. Andate, potrò più guidarmi Un uomo da poco mi ha reso cieco Dopo avermi domato il cuore col vino Si chiama nessuno Ma io ti dico che egli non è ancora sfuggito Ulisse! Cicrope! Se qualcuno fra i mortali ti domandasse Quale nemico ti abbia accecato Rispondigli che l'astuzia di Ulisse ha vinto la tua forza Ulisse!